buonasera buonasera da onda tg in primo piano la cronaca il 60 anni scomparso arraiano è morto per un malore per cause naturali la conferma è arrivata dall'esame autottico che è stato eseguito nel pomeriggio all'ospedale di sulmona ma sentiamo meglio nel nostro servizio nessun segno di violenza come remerso in fase di ricognizione cadaverica nessuna morte provocata da una caduta o da una perdita di equilibrio il 60 anni che aveva fatto perdere le tracce arraiano angelo serafino di berardino è morto per cause naturali a stroncare la sua vita è stato quasi sicuramente un malore a stabilirlo è stato l'esame autottico eseguito nel pomeriggio all'ospedale di sulmona dall'anatomo patologo il dopo lidoro che ha escluso il decesso per un eventuale disorientamento una delle ipotesi che era al vaglio degli investigatori per il medico legale non ci sarebbero dubbi l'uomo è morto in seguito a un malore la scomparsa è stata denuncia dei carabinieri di raiano due giorni fa ma l'uomo aveva fatto perdere le sue tracce già la domenica sera la morte risalirebbe alla giornata di lunedì quando il 60enne conosciuto e stimato in paese si sarebbe imbattuto in una passeggiata nel sentiero delle uccole di raiano la strada che porta all'eremo di san venanzio lì è stato rinvenuto cadavere già in avanzato stato di decomposizione dal soccorso alpino della guardia di finanza mentre stava sorvolando con l'elicottero la zona la salma al termine dell'esame autottico è stata riconsegnata ai familiari per la celebrazione delle sequie e ora la cronaca ci porta a pacentro nove cuccioli di cani sono stati abbandonati per strada all'interno di un sacco chiesti controlli a tappeto nel 2018 succede anche questo nove cuccioli di cane con solo dieci giorni di vita sono stati abbandonati in un sacco a pacentro in grave episodio è stato subito denunciato dalla presidente dell'associazione code felici gabriella tunno che ha chiesto controlli a tappeto nella zona denuncerò tutto alla locale stazione dei carabinieri se è vero che le adozioni sono in crescita negli ultimi anni nonostante eventi e manifestazioni volte a contrastare triste fenomeno dell'abbandono gli episodi non cessano due dei nuovi cuccioli erano praticamente in fin di vita sono stati salvati dall'amica decani che gestisce sul mona il canile comunale di noce mattei ma ora hanno bisogno di essere allattati presi in cura e anche sterilizzati faccio un appello al sindaco di pacentro avvertite i carabinieri chiede un controllo a tappeto per tutti gli allevatori intervenuto gabriella tunno chiedendo aiuto anche volontari animalisti per adottare i cuccioli io posso prendermene cura solo di giorno ha concluso l'amica decani il canile di noce mattei ospita già 300 cani non ci sono spazi al momento per ospitarne altri certo è che lasciare per strada e dentro un sacco nove cuccioli è uno dei gesti più disumani ma succede anche questo e ora la sanità l'ospedale di sul mona ha chiuso il repartino penitenziario dove venivano ricoverati i detenuti del carcere di piazzale vittime del dovere una chiusura dopo dieci anni di lotte decisiva è stata la relazione del garante nazionale dei detenuti ma facciamo il punto nel nostro servizio dieci anni di lotte da parte della will per il repartino penitenziario dell'ospedale di sul mona che è sarò chiuso dalla asla benzano su mona l'aquila a seguito della certificazione del garante nazionale dei detenuti che fosse molto pericoloso ricoverare detenuti e far lavorare poliziotti in uno spazio angusto privato di luce naturale sufficiente a reazione e per di più ubicato in un sotterraneo ritenuto privo dei requisiti sismici pretese dalla norma noi della will lo diciamo da più di dieci anni in calza sindacalista mauro nardella spiegando che chiudere repartino solo dopo che il garante nazionale dei detenuti ne ha certificato l'assoluta verità da noi espressa ci fa rabbia anche se nello stesso tempo ci rende giustizia è bastata una disposizione fatta dalla garante nazionale dei detenuti nel momento in cui è venuta a fare l'ispezione qui a sul mona l'anno scorso per far chiudere una struttura che noi da dieci anni denunciamo l'inconsistenza sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista salubrale questo ci fa rabbia ci fa capire che non basta il verbo sindacale per favorire un miglioramento delle condizioni di vita e non solo dei detenuti ma anche e soprattutto dei operatori penitenziari ci deve sicuramente far riflettere nardella è anche convinto che fa rispettare le regole all'amministrazione penitenziaria in ordine all'applicazione di parametri legislativi siamo convinti che farà stare meglio i reclusi ma anche soprattutto coloro i quali sono preposti alla sorveglianza degli stessi ovvero sia la polizia penitenziaria sindacalista invita quindi l'asla ad accelerare le procedure per la realizzazione del repartino nel nuovo corpo ospedaliero che sarà inaugurato a settembre. Allora la pagina della cultura perché è finito il primo tempo per il cinema pacifico di Sulmona comincia la pausa estiva ma a settembre si cambia registro annuncia il neo assessore della cultura Alessandro Bencimente. Fine primo tempo l'intervallo comincia oggi al cinema pacifico con la chiusura estiva annunciata a un dati in cida ai gestori e terminerà il prossimo 31 agosto tutto previsto nella convenzione che dura 18 mesi firmata nello scorso novembre dal comune di Sulmone e da Talia e SRL ma la pausa estiva servirà a riprogrammare le proiezioni cinematografiche con l'assessore comunale alla cultura Alessandro Bencivenga che non vuole lasciare nulla al caso. Le basse presenze in sala impongono in effetti un ripensamento sulla gestione della storica sala cinematografica che ha fatto il pienone con Sulmona Cinema e aumenta il bacino d'utenza solo nei weekend. Come invertire la tendenza per Bencivenga bisognerebbe puntare su altri target anche proiezioni di nicchia che per questa città però servono. Il riferimento è agli adolescenti che non hanno possibilità di spostarsi in auto o alla popolazione adulta che predilige la comodità. Per questo l'assessore a settembre si siederà a tavolino con i gestori per studiare una linea comune ed evitare che il cinema venga identificato come il doppione della multisala. Del resto anche i gestori stavano pensando ad alcune novità come il drink da abbinare a biglietto d'ingresso e l'apericinema che non potrà decollare subito perché servono altri fondi. Fine primo tempo per il Pacifico con l'auspicio che il secondo offra solo sorprese positive si intende. Regione Abruzzo è comitato insieme per Fabrizia Di Lorenzo, la giovane vittima dell'attentato terroristico di Berlino. Da lunedì al via alle domande per due borse di studio da 5.000 euro. Ma sentiamo i particolari al nostro servizio. Due borse di studio a valore complessivo di 5.000 euro derogare a studenti meritevoli in condizioni di difficoltà economica che intendono proseguire gli studi dopo il diploma presso l'Università dell'Aquila. Il comitato insieme per Fabrizia e la regione Abruzzo hanno illustrato questa mattina tutti i dettagli del progetto che mira ad agevolare la permanenza nel centro Abruzzo dei giovani ma anche a puntare sulla cultura per contrastare ogni forma di violenza e indifferenza, valori lontani dalla personalità della giovane sulmonese morta a Berlino che nella sua vita starà più volte esempio di altruismo. Le due borse di studio dal valore di 2.500 euro ciascuna saranno assegnate a due studenti del quinto anno del liceo Vico di Sulmone. Possono partecipare al bando gli studenti che intendono iscriversi all'Università delle Storie dell'Aquila, l'indirizzo umanistico-linguistico che avranno riportato un voto da 80 a 100 con reddito familiare più basso. La valutazione sarà eseguire ad apposita commissione che prenderà in considerazione l'iscrizione all'Università delle Storie dell'Aquila, il merito e la condizione economica. La domanda si può presentare da oggi fino al 30 luglio in carta semplice indirizzata al comitato insieme per Fabrizio Di Lorenzo Ollus, via Rabona 47b Sulmona oppure tramite mezzo postale. Queste borse di studio portano con sé una serie di valori e di riflessioni intervenuto il Presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio assicurando l'impegno a portare avanti l'iniziativa anche nei prossimi anni, fermo restando la volontà dei suoi successori. La fondabilità economica è stata messa con i risparmi della Presidenza del Consiglio, del Consiglio regionale. Per quanto mi riguarda il Presidente del Consiglio rimarrà in eterno, in eterno verrà fatta questa manifestazione di borse di studio. Io farò in modo tale di sensibilizzare anche quelli che arriveranno dopo di me, se arriveranno dopo di me al posto mio affinché possano stare vicino a questa manifestazione che ritengo sia un modello da limitata anche in altri luoghi del nostro territorio regionale. Il bando è stato presentato dalla Presidente del Comitato Giovanna Frattaroli, la madre di Fabrizia Di Lorenzo, la dirigente scolastico del Polo Vidio, Caterina Fantauzzi, dalla professoressa Anna Maria Iervolino, anello di congiunzione fra la generazione di Fabrizia e quella attuale. Infatti noi con queste borse di studio, grazie sempre alla Regione, noi vogliamo portare avanti proprio, ricordare in qualche modo Fabrizia e portare avanti i suoi ideali, proprio trasmettendo questi valori e queste cose a questi ragazzi con queste borse di studio. Conta moltissimo perché innanzitutto sono borse di studio che vanno a valorizzare le eccellenze della scuola, vanno ad aiutare quelle famiglie che sono in difficoltà e poi valorizzano anche quella che è l'Università dell'Aquila che, insomma, sappiamo dal terremoto ha avuto anni di difficoltà. Quindi, insomma, queste borse di studio vanno a valorizzare più cose e noi ne siamo assolutamente contenti. E ora la viabilità, riepiatura al traffico per la strada frentana, per quella marsicana, la provincia dell'Aquila ora passa ai fatti, ma sentiamo meglio nel nostro servizio. La provincia dell'Aquila riapre le strade e continua a spingere piede sull'acceleratore sul fronte della viabilità. Dopo settimane intense e difficili, segna della protesta e sciopero della fame e manifestazioni, nell'elenco delle strade riaperte compaiono la strada provinciale 12 frentana, dove insiste il valico della forchetta, rimbalzato agli onori della cronaca. La strada provinciale 80 di Campo Imperatore, la strada regionale 83 Marsicana, tra Opia e Alfedena, anch'essa oggetto di proteste con imprenditori che erano già pronti per dar vita a una class action. Il presidente della provincia, Angelo Caruso, parla di eccezionali misure per la manutenzione e rifacimento del manto stradale sulle arterie regionali e provinciali. L'affidamento, nei giorni scorsi, per oltre 275 mila euro, ha consentito la sistemazione di alcune strade, permettendo la revoca dell'ordinanza dirigenziale di chiusura. Il presidente Angelo Caruso precisa che altri affidamenti, con relativi interventi, continueranno nei prossimi giorni su tutte le strade della provincia e consentiranno a lavori ultimati la riapertura di tutte le strade oggetto di ordinanza. L'intento rimane unicamente garantire ai cittadini e turisti un elevato grado di tutela e salvaguardia nella percorribilità delle strade di competenza. E ora la raccolta differenziata a Prato-La Peligna. In estate si cambia. Vediamo quali sono le novità nel nostro servizio. Partiranno il prossimo 4 giugno il servizio estivo della raccolta differenziata, con la terza raccolta del numido e la seconda dell'indifferenziato come d'apposito calendario. L'amministrazione comunale porta a conoscenza anche le disposizioni sulle lettiere per cani. Quelle biodegradabili devono essere conferite nell'umido, mentre andranno invece nell'indifferenziato le lettiere in materiale sintetico. A un anno dall'insediamento della nuova amministrazione, sottolinea il capogruppo di Prato-La Bellissima con delega all'ambiente Antony Leone, vogliamo ringraziare i cittadini pratolani per il loro comportamento responsabile e rispettoso dell'ambiente. Gli ultimi dati sulla raccolta differenziata fanno registrare un'impennata di ben 7 punti percentuali su base annua, sostenuto dal rilevo mensile che si attesta intorno all'80%. Dati che confermano anche la bontà delle scelte operate nell'ultimo anno dall'amministrazione di Nino all'interno di un percorso complessivo che su questo settore punta all'obiettivo di rendere meno costoso il servizio ai nostri cittadini. E ora ci spostiamo a Canzano per tornare a parlare dell'acqua potabile. Si torna alla normalità come avvenuto ieri per Campo di Giove. Il sindaco revoca l'ordinanza. Anche a Canzano si torna alla normalità. Il sindaco Mario Ciampaglione dopo le ultime comunicazioni della ASL Avezzano-Sumona L'Aquila ha revocato l'ordinanza che vietava l'uso dell'acqua per scopo alimentare a seguire dei primi accertamenti eseguiti dall'ARTA. Le controanalisi come avvenuto anche per Campo di Giove si sono rilevate conformi ai requisiti di potabilità. I referti analitici delle analisi effettuate dalla società Ecopoint SRL sul campione d'acqua destinato al consumo umano presso i punti di rilievo indicati, la fontana pubblica di Piazza 20 Settembre e Ara del Colle, sono conformi ai requisiti di potabilità previsti dal Decreto Legislativo 31 del 2001 e dal Decreto Legislativo 27 del 2002. Una controanalisi che ha permesso al primo cittadino di rievocare la precedente ordinanza emessa lo scorso 30 maggio ripristinando così una situazione di normalità. La vicenda dell'acqua potabile si chiude nel migliore dei modi nel giro di 48 ore. Stessa sorte è toccata anche a Campo di Giove dove le controanalisi anche lì sono state conformi ai requisiti di potabilità tant'è che stamane il Vice Sindaco Stefano Di Mascio ha proceduto alla revoca dell'ordinanza. Ora parliamo del progetto del manto sintetico allo Stadio Pallozzi di Sulmona. Pensate è tornato indietro per una prescrizione, una vicenda che ha davvero dell'incredibile. Ci dice tutto nel servizio. Domenico Berlingeri. La realizzazione del manto sintetico allo Stadio Pallozzi di Sulmona subisce l'ennesimo stop. La Lega Nazionale di Lettanti ha infatti dato parere negativo sull'omologazione per alcune incongruenze tecniche. È il boccone amaro che hanno dovuto mangiare il progettista Mario Santini e l'ingegnere del Comune Fabrizio Petrilli che si sono recati ieri a Roma con l'auspicio di tornare con notizie positive, ma non è stato così. Nello specifico sono emerse disquisizioni sull'utilizzo del trenaggio tra verticale e orizzontale e il progetto dovrà essere ripresentato con le apposite variazioni. La questione è stata oggetto di scontro tra il presidente del Sulmona Calcio Pier Giorgio Schiavo, dimesso Sieri, e l'amministrazione comunale. I fatti affermato Schiavo mi danno ragione perché l'inefficienza e l'inettitudine di questa amministrazione sono sotto gli occhi di tutti. Come si fanno a fare proclami dicendo che il sintetico sarebbe andato in giunta in settimana quando mancava ancora la risposta da Roma? L'assessore allo sport e lavori pubblici Nicola Angelucci però non fa drammi e sostiene che i tempi per la variazione da portare saranno fulminei. Ora torniamo a parlare dei corsi del Denino Morandi con il corso dei geometri a rischio. Vediamo che cosa si dice in piazza nella nostra raccolta di opinioni. È la solita storia, la politica chiude la stalla quando i buoi sono scappati e il filo conduttore di una fine annunciata, si spera solo temporanea, nel Denino Morandi di Sulmona, chiuso da quattro anni dopo i sigilli posti dalla finanza dell'Aquila per presunti lavori sbagliati post-sisma. Solo ieri, dopo aver ricevuto le comunicazioni da parte dei dirigenti, le istituzioni hanno chiesto un incontro urgente a provincia, proveritorato e ufficio scolastico provinciale. L'anno scolastico 2018-2019 salva solo il corso dei ragionieri che raggiunge la soglia stabilita dalla legge per costituire la prima classe, mentre quasi sicuramente non si formerà il corso per geometri. L'ironia della sorte ha voluto che tutto questo avvenisse, mentre la provincia dell'Aquila finalmente sta predisponendo l'avviso pubblico per individuare una sede alternativa sul Mona, dove riportare la popolazione scolastica del Denino Morandi. Il numero degli studenti si è notevolmente ridotto, anche se sotto il profilo didattico ragionieri e geometri si sono comunque fatti valere. Ma sì, speriamo che si risolva la situazione. E' un mare insomma, ma che cominciano pure a mancare pure, ad andare male pure alle scuole, l'unica cosa che c'è rimasto qua sul Mona, non lo so. Continuiamo a mandare le scuole a Pratola e la gente non si può manco incollare l'abbonamento, parliamoci chiaro Andri, la gente non ci susscrive, perché le condizioni della gente, pure di Sulmona che non c'è lavoro, sono un po' tirate. Ora parliamo della quindicesima giornata nazionale dello sport del Coni, che si svolgerà domenica agli impianti e campi dell'incoronata Sulmona. Domenico Verlingeri nel servizio. Sarà la città di Sulmona ad ospitare quest'anno per la provincia dell'Aquila la giornata nazionale dello sport indetta dal Coni. Appuntamento come da tradizione per la prima domenica di giugno. Teatro dell'evento saranno gli impianti dell'incoronata con la pista di atletica leggera e il campo di rugby, due strutture gestite da privati che rappresentano un fiore all'occhiello per il capologo Peligno. Lo scopo, afferma il fiduciario Coni, Mimo Carrozza, è quello di sensibilizzare i cittadini a praticare lo sport e a promuovere le discipline coinvolte con attività adeguate per poter incrementare sempre di più la massa degli sportivi. La manifestazione, rivolta prevalentemente alle fasce giovanili, offre l'occasione ad atleti, amatori e sportivi di tutta l'età di cimentarsi in gare non competitive di diverse discipline perché il Coni intende far ristaurare in ogni cittadino la cultura dello sport come costume di vita. Verranno praticate le attività dell'atletica leggera, del rugby educativo, della scherma, del ciclismo, delle arti marziali e del calcio su spazi di dimensione ridotta. Hanno aderito le società Olimpia Cedas, Peligna Sulmona Rugby, Amatori Atletica Serafini, Ginnasium Scherma Club Sulmona, la sezione ciclismo del dopolavoro ferroviario di Sulmona e la ASD di Sabili Sulmona. Il Coni, conclude Carrozza, consegnerà ad ogni partecipante una t-shirt in ricordo della giornata trascorsa in un ambiente naturale con un'attività motoria a carattere polivalente che farà conoscere a ciascuno le qualità fisiche di cui è in possesso e la disciplina sportiva per cui è maggiormente evocato. La giornata nazionale dello sport celebrerà domenica 3 giugno la quindicesima edizione che partirà alle 9.30 per concludersi alle 13.00. Sarà presente il delegato provinciale del Coni, Luciano Perazza. E ora è arrivato l'atteso momento della buona notizia del giorno. La macchina organizzativa si è messa in moto già da tempo ma oggi è arrivata l'ufficialità. Sarà il concerto degli apri la classe ad agliatare il pubblico della Notte Romantica di Bugnara che si svolgerà il prossimo 28 luglio. Una data è calenderezzata da mesi e con l'avvicinarsi della bella stagione gli organizzatori stanno scaldando i motori per definire tutti i particolari. In occasione della tredicesima edizione di Romantica il Festival Internazionale dei Fioristi che sederà a Bugnara sabato 28 luglio 2018 avremo graditi ospiti gli apri la classe annunciato il consigliere comunale Michele Stinziani che sta curando l'organizzazione su delega del sindaco Giuseppe Lostracco. Gli apri la classe sono un gruppo musicale, ska ed electro rock italiano. La band originaria di Aradeo in provincia di Lecce è composta da Cesco, voce e chitarre, Puccia, voce visarmonica tastiere, combas, basso, cori, Alex Ricci alla chitarra, Gemmi alla batteria. Ma la Kermesse oltre al concerto prevederà una serie di iniziative incentrate sull'arte floreale. In questo gioca un ruolo fondamentale l'Ateneo che ha sede a Bugnara che organizza il festival in collaborazione con il Comune. Romantica anche quest'anno dovrà chinare il capo, la circolare Gabrielli, ma non è una novità per la cittadina che già lo scorso anno ha avuto a che fare con le nuove disposizioni in materia di sicurezza e ordine pubblico. Una data, quella del 28 luglio, che poteva diventare la vigilia del voto se Mattarella, Lega e 5 Stelle non si fossero messi d'accordo per la nascita del nuovo governo. Ma scherzi a parte, l'auspicio è che tutto, come al solito, filerà liscio. Il Borgo San Panfilo comanda la classifica al termine della prima giornata della cordesca 2018, la giostra dei bambini. Vediamo tutto nel servizio di Domenico Berlingeri. Il Borgo San Panfilo conduce la classifica parziale dopo le prime sfide della sedicesima edizione della cordesca. Tanto entusiasmo sin dai primi momenti con il corteo animato da oltre 500 bambini dei borghi e sestiali cittadini che dopo aver sfilato il lungo corso video è giunto allo Stadio Pallozzi per le sfide della Corsa Aglianelli. I bambini sono l'anima, la forza, quello che è il nostro futuro per loro ogni volta vederli qui in abiti rinascimentali e poi vederli correre durante il campo di gara è veramente qualcosa di bello. Sono loro il nostro futuro, lo ripeto sempre perché da quando è iniziata la cordesca molti di quei ragazzi che hanno iniziato oggi fanno parte attiva sia dei borghi e sestieri che della giostra cavalleresca. Prima delle sfide è stato presentato il palio della cordesca 2018, opera dell'artista locale Antonio del Beato Corbi. Com'è nata l'idea di realizzare quest'opera per la giostra cavalleresca dei bambini? Diciamo che è stata una cattiveria che mi ha fatto l'amico Umberto Malvetturo, il quale avendo visto alcuni miei quadri ha detto andò perché per gentilezza non ci fa il quadro. Cosa vediamo raffigurato? Abbiamo raffigurato il vincitore circondato dalle farfalle dei borghi e sestieri che volano nell'area del campo dove si volta la cordesca e purtroppo c'è anche il bambino, il ragazzo che ha perso, che sta giù a testa a china perché ha perso. Questo è quello che volevo un po' rappresentare. Con tre vittorie, 10 botte e 12 punti e il tempo di 47,95, il Borgo San Panfilo guida la classifica parziale. Alle spalle fili amabili Pacentrano, Manaresca, Tombaia, Passeri e Bonomini. Domani l'atto finale per decretare il vincitore della sedicesima edizione della cordesca. Presidente Taglieri, anche quest'anno il giro della giostra sarà lungo ed impegnativo. Il primo passo è questa edizione della cordesca che vediamo richiama l'attenzione di tantissimi bambini. Sì, la cosa importante che va detta e va affermata è che finalmente la giostra è diventato un appuntamento preciso, un appuntamento che non va eluso. Gli altri anni si fa, non si fa. Oggi siamo arrivati al punto che abbiamo trovato i finanziamenti perché la giostra si faccia. E chiudiamo con lo dico al TG. Domande, curiosità e segnalazioni sulle notizie del giorno e non solo che peschiamo sulla nostra pagina Facebook con la diretta live di Onda TG. Commenti che questa sera peschiamo dei vari articoli e si vede proprio che la cordesca ha un po' dominato la scena ma uno degli argomenti caldi è stato sempre quello del Denino Morandi. Venti anni fa ci scrive una telespettatrice, l'Istituto Ragioneria arrivava fino alla sezione F con due indirizzi. Ora malapena si forma una classe, geometri nulla e gli insegnanti cosa faranno? Il dislocamento è stato disastroso. Ancora un'altra telespettatrice, inutile dire che il trasloco del Denino Morandi con il trasloco è morto un intero comprensorio e poi ancora dominano i commenti femminili. Questa scuola, dice un'altra telespettatrice, non trova pace. Quindi continuate a scriverci sui social. Dopo di noi vi ricordo, Abruzzo, notizie e il punto. Bene davvero tutto per questa edizione. Onda Riggi torna domani. Grazie per essere rimasti con noi. A tutti voi lascio la buona serata. Arrivederci.